Buonasera al gruppo degli artisti irpini sempre qui a Bonito per le prime azioni della poesia dialettale cura della Grande Madre con Franca Boninaro, questi che sono inquadrati, sono delle opere di Nicola Guarino che è in abbinamento con il generoso Avella, con l'altalena della vita e Diamanti ma non ci sono soltanto opere di pittura, infatti possiamo dire anche ceramica poi opere in filo scultura fa cura di Antonio Scaparrotta e artigianato locale a tutti i due da questo meraviglioso convento francescano di Sant'Antonio a Bonito Buonasera al gruppo degli artisti irpini ai prossimi appuntamenti